E cambiamo argomento, garantire i livelli di minima assistenza sanitaria nelle carceri pugliesi. Questa mattina la firma del protocollo di intesa tra Regione Puglia è provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. Ce ne parla Silvia Dipinto. In una regione che subisce il piano di rientro, il primo pericolo è dimenticare chi non ha voce. L'assessore alla salute Tommaso Fiore non ha dubbi. La medicina penitenziaria da due anni, competenza del Ministero della Sanità e non più di quello della Giustizia, è uno dei settori più martoriati dalla carenza di personale e dai tagli alla spesa pubblica. Sovraffollamento, problemi di organico, nuove emergenze, quali la diffusione delle malattie infettive come la tubercolosi, aggravano un sistema dalla gestione già difficile. Si pensi per esempio al trasporto dei detenuti fuori dal carcere per le visite specialistiche. E allora a Regione Puglia, provveditorato dell'amministrazione penitenziaria e centro giustizia minorile, firmano un protocollo d'intesa per codificare i livelli minimi di assistenza che vanno garantiti anche in regime di privazione della libertà personale e strutturare prassi e interventi necessari per personale e detenuti. Sentiamo l'assessore Tommaso Fiore. Secondo me, proprio quando ci sono i piani di rientro, noi dobbiamo fare delle scelte di priorità. Le scelte di priorità si fanno, a mio avviso, partendo dalle condizioni degli ultimi. I più poveri, quelli che hanno maggiore difficoltà, che non sono in grado di difendersi da solo, che non hanno alternative. O li difendiamo noi o non li difende nessuno. Accolgono i viaggiatori sui treni notte e garantiscono i servizi nelle cuccette. Da dicembre però perderanno il posto di lavoro. Sono 45 baresi che chiedono di essere ricollocati da Trenitalia. Silvia Dipinto. Accolgono i viaggiatori sui treni notte, garantiscono i servizi nelle cuccette, possono anche mettere i biglietti. Sono gli operatori di bordo, lavoratori che da quasi un secolo e mezzo gestiscono le vetture letto di Trenitalia. Solo a Bari i dipendenti della Servirei, l'ex Wagonlitz, società appaltatrice del servizio, sono 44 e dall'11 dicembre saranno ufficialmente disoccupati. La domanda dei treni notte crolla, si cancellano intere tratte e alla Servirei non conviene più partecipare al nuovo bando con cui Trenitalia affiderà la custodia delle poche cuccette che continueranno a percorrere il sud Italia. A nulla sono serviti gli incontri a Roma con il ministro dei Trasporti. Sembrano vani anche i tentativi di risolvere la questione con ripetute interrogazioni dei parlamentari pugliesi. I dipendenti Servirei chiedono di essere ricollocati all'interno di Trenitalia magari dopo un corso di aggiornamento e oggi sono disposti a piantare le tende in maniera permanente nella capitale. Noi abbiamo un'esperienza decennale in quanto usiamo gli stessi strumenti dei ferrovieri. Basta un corso per diventare a tutti gli effetti dei ferrovieri. Bisogna dire che l'11 dicembre saremo 483 dipendenti senza un lavoro e senza un futuro per le nostre famiglie. E questo fa rabbia in quanto una notizia recente Trenitalia sta investendo in Francia creando una nuova società la TVT Trenitalia Veolia Transferred in associazione proprio con Veolia per la tratta Parigi Venezia. Tutto questo è paradossale che dà lavoro all'estero e toglie lavoro in Italia. Concludo dicendo che voglio fare un appello a tutte le istituzioni che si facciano carico della nostra situazione. Software Libero, un disegno di legge per tagliare le spese dell'amministrazione regionale. A presentarlo l'assessore alle politiche migratorie Nicola Fratoianni, oggi in occasione degli Stati Generali dell'Innovazione. Sentiamo l'intervista. Assessore, questa mattina al Cineporto gli Stati Generali dell'Innovazione e la Regione Puglia hanno incentrato il suo intervento su un progetto sul software libero. Proprio in questi giorni va in discussione nella commissione competente un disegno di legge che come giunta abbiamo presentato e che ha come obiettivo quello di sviluppare, favorire lo sviluppo del software libero sia nell'ambito dell'amministrazione pubblica attivando una progressiva migrazione dei sistemi informatici della Regione Puglia da software proprietario a software libero sia attraverso un'incentivazione nell'utilizzo del software libero anche nei percorsi di formazione. È una scelta di carattere culturale, politico. Il software libero significa più democrazia, significa favorire la democrazia sostanziale nella possibilità di partecipare ai processi di costruzione della società della comunicazione, ai processi cognitivi, significa dare ai cittadini la possibilità di essere parte dello sviluppo tecnologico. Poi c'è una valutazione economica. Gli enti pubblici ogni anno spendono milioni di euro in licenze, passare al software libero significa ridurre i costi. Certo all'inizio ci sarà un costo di formazione, di adattamento, ma in prospettiva, a regime, come si dice, significa mettere in campo un risparmio molto importante che in un momento come questo mi pare una questione non secondaria. Presentazione questa mattina dell'iniziativa congiunta dell'ImpDAP Politecnico Università di Bari relativa all'alta formazione universitaria e capiamo allora di che cosa si tratta in questa intervista al dottor Paolo Sardi, presidente, dirigente generale ImpDAP Puglia e Basilicata realizzata da Serena Russo. Oggi è un momento importante per l'ImpDAP perché proponiamo cinque master universitari finanziati appunto dal nostro istituto ovviamente rivolti ai dipendenti e ai figli dei lavoratori e dei pensionati ImpDAP. È un modo del nostro istituto di entrare nel mondo del lavoro sperando appunto attraverso queste iniziative di favorire l'inserimento nel lavoro dei giovani. Facciamo una breve carrellata di questi master giusto per far capire a chi ci segue. Cinque master, tre diciamo percorsi presso l'Università di Bari e due presso il Politecnico. sono iniziative rivolte a un settore anche abbastanza variegato perché si parla di ambiente, si parla di territorio, si parla di diritto del lavoro, di rapporti sindacali, quindi tutto un mondo molto ampio su cui appunto i corsisti sicuramente riusciranno a sviluppare la loro professionalità da mettere poi a disposizione per aziende e pubbliche amministrazioni una volta appunto terminato il corso tenendo anche conto della qualità che noi abbiamo già potuto constatare lo scorso anno la qualità di questi corsi e su questo appunto noi puntiamo molto anche per l'anno in corso. Grande festa ieri sera nel centro anziani Don Luigi Guanella per celebrare la santificazione del sacerdote proclamata da Papa Benedetto XVI domenica mattina a Roma. È la festa della santità diffusa nelle parrocchie, nelle famiglie tra anziani, bambini e disabili ha dichiarato Don Pietro Lorusso Don Guanella con Cottolengo e Don Bosco è stato profeta già nella seconda metà dell'Ottocento di quell'antropologia che va inaugurando la cultura di questo terzo millennio l'uomo è lo stupore di Dio. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore nuvolosità sparsa vento da sud-est con temperature tra 15 e 22 gradi vi ricordo inoltre per tutti gli aggiornamenti i nostri siti web telebari.it e radiobari.net è tutto per questa edizione di TG grazie per averci seguito buona giornata grazie per aver guardato il nostro canale